ciao a tutti e in particolar modo ciao sergio eblo grande videomaker allora vengo a rispondere alla tua domanda se è possibile attivare lo stabilizzatore nel rolling shutter all'interno di final cut la risposta è sì ti faccio vedere subito ok allora io tramite una loptec ho inserito la scorciatoia che è contro l'alt command space per aprire il se il search control che è questo qui perciò come puoi subito vedere ci sono già belle fatti i comandi per attivare lo stabilizzatore nelle sue tre modalità addirittura disattiva e attiva e le altre voci voi non le troverete perché questi sono dei codici che ho scritto io e niente comunque come si può vedere qui la stabilizzazione è spenta perciò se io faccio automatic o inertial cam lui mi attiverà come si può vedere qui la stabilizzazione è disattivata dicevo appunto la differenza fra questi qui che sono già presenti all'interno di command post rispetto a questi e che quest'ultimi li ho realizzati io tramite un codice e fa tutto in automatico cioè seleziona la clip in corrispondenza del play held mentre questi qui se io li vado a provare non funzionano perché devo selezionare una clip poi faccio search console faccio inertial cam e misiattiva la stabilizzazione la differenza è questa fra gli script che ho fatto io manualmente dove appunto lui esegue una serie di istruzioni perciò gli ho detto anche di selezionare una clip tramite un keystroke gli ho detto c perché la c seleziona in final cut e funziona in modo automatico e si attiva e si disattiva perciò possiamo appunto assegnare delle scorciatoie a questi stabilizzatori qui anche addirittura enable disable oppure agli stabilizzatori che ho creato io qui tramite un codice lua ok per automatizzare questo attraverso una console si fa così si va in control surface chi non ha una lop deck è preferibile assegnare una scorciatoia tramite keyboard si sceglie un campo libero qui come si può vedere io ne ho già tanti e assegnare una scorciatoia questa scorciatoia la si impasto a una stream deck lop deck o a touch portal e c'è un altro metodo per chi ha lop deck per non consumare tra virgolette passatemi il termine le scorciatoie no magari non sai cos'altro inventarti per per dare una scorciatoia che non vada in conflitto con altre la lop deck viene incontro perché appunto scaricando la plugin che qui come si può vedere ci sono questi favoriti che si possono andare a richiamare qui nella appunto nella sezione lop deck plugin comparirà questo menu con favorito 12345 ce ne sono veramente tanti e qui basterà assegnare appunto alla pressione o turn left turn right addirittura ok perciò possiamo dare anche i dial sulla lop deck le rotelline per volumi diciamo così e senza appunto andare a come posso dire a consumare scorciatoie da tastiera e spero che sia chiaro insomma comunque come si fa io qui l'ho già fatto infatti c'è stabilizzazione automatic e basta che appare un selezionare un campo vuoto fai search si apre di nuovo appunto il search control scrivo stabilizzazione e scelgo che cosa dargli e ho finito e qui è pronto poi dopo si va in lop deck appunto nel software dove si vuole operare chiaramente questa plugin di command post è dedicata a final cut perciò non si troverà non ci ho mai provato magari ci provo anzi lo faccio subito vado in da vinci vediamo se riesco non secondo me non è così però non dovrebbe funzionare e se gli do se vado a selezionare può darsi che funziona anche però dipende poi da che comandi si funziona anche per 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 da vinci a questo punto mi viene da dire che funziona anche per qualsiasi altro software perciò basterà assegnare qui dentro delle funzionalità delle dei comandi inerenti al software che si sta utilizzando in questo caso io ho cercato stabilizzazione per final cut e così via nei prossimi giorni voglio provare anche in fine da vinci e torniamo qui in final cut appunto si torna qui e si bisogna ricordarsi soltanto appunto il canale dove si è assegnato la pressione del tasto qui in alto sceglieremo se le dial o la semplice pressione perciò io ho assegnato lo stabilizzatore inerzi al cam al preferito 4 prende preferito 4 e lo porto appunto in una in una posizione vuota in un tasto vuoto di questi o addirittura una pressione del dial perciò lo prendo lo porto qui e posso poi andare comunque a personalizzare il tasto io ne ho disegnati di personalizzati per final cut letteralmente disegnati io e dovrei averceli qui qui dentro stream deck final cut e siano veramente tantissimi eccoli qua eccola qua stabilizzazione ok eccola qua compositing stabilizzazione qui c'è anche la combinazione di tasti qualora vogliate assegnare appunto una combinazione di tasti tramite keyboard qui per altri dispositivi di controllo io ho fatto questo e ho il mio bel tasto sulla lop deck bello con la grafica così lo posso anche riconoscere stessa cosa ti rispondo a rolling rolling si bisogna scrivere un po piano eccolo qua e si può scegliere varie modalità perciò io ho assegnato al preferito 5 lo trascino la stessa cosa è il gioco è fatto perciò direi che è molto semplice e veloce e facile anche su keyboard si può assegnare uno spazio vuoto gli si deve assegnare una scorciatoia stando attenti sempre come detto prima non andare in conflitto con altre scorciatoie mi fermo qui perché il video è troppo lungo intanto grazie a tutti e benvenuti nel nuovo gruppo fatemi sapere se vi è piaciuto e condividete